Musica Me li sono persi, hanno il numero 52, andiamo a cercarli E sono... esatto, allora, vi ho trovato, eh Alberto Martino e Tomaglieri e Roberto, eccovi qua Scusate perché il caldo non frega solo a voi Ma comincia a mettere anche uno come me Che in questo periodo sta soffrendo come una bestia A causa un'ernia del disco E a castigo E poi non siamo famosi, quindi anche se ti ricordavi non era un problema, eh E' giusto invece ricordare tutti quanti Perché come tutti quanti voi, oltre a pagare l'iscrizione Che è una cosa fondamentale, partecipate al rally Ed è giusto menzionarvi tutti quanti Perché voi fate parte del rally, siete il rally Bene, poi io volevo fare davvero complimenti all'organizzazione Perché una parte del proie che sono veramente, veramente belle C'è un po' di tutto, un guidato misto, un sconnesso E' un grande rally L'abbiamo già fatto questo anno dicembre E non ci è piaciuto se è normale Grazie ragazzi Sparcheggiate e raggiungeteci per la pericena Un grazie quindi ad Alberto Martino e a Roberto Tomaglieri Dovrebbe essere la bocca di... E' un po' di tutto, un po' di tutto, un po' di tutto E' un po' di tutto, un po' di tutto E' un po' di tutto, un po' di tutto, un po' di tutto Grazie.